Siamo con Alessandra Arceri, curatrice di questo ologramma di Gabriele D'Annunzio qui all'Aurum di Pescara. Alessandra, vogliamo spiegare di cosa si tratta e com'è nata questa iniziativa? Si tratta di una proiezione, chiamiamola così in maniera impropria, e della creazione di un'immagine attraverso una serie di trucchi, chiamiamoli così, di direzione della fotografia, che ci permettono di materializzare un'immagine che è stata precedentemente ripresa. Quindi nel caso di questi ologrammi le interpretazioni sono effettuate da attori professionisti, chiaramente che vedete sullo schermo, che hanno un testo. Io mi sono occupata della redazione dei testi, quindi nel caso di D'Annunzio di effettuare uno studio il più possibile approfondito sui testi, perché si tratta chiaramente di mettere in bocca a D'Annunzio le parole che avrebbe avuto D'Annunzio per spiegarci un pochino la sua vita. In questo caso le lettere che ho tratto dal carteggio effettivo tra D'Annunzio e Eleonora Duse, così come i motti. C'è D'Annunzio che ci racconta com'è nato il suo motto più famoso, un momento a udere sempre, e quindi in qualche maniera ho cercato di ricostruire il modo in cui Gabriele D'Annunzio, con il suo linguaggio, avrebbe potuto spiegarci com'è nato questo motto. Le installazioni olografiche sono multilingua e completamente interattive, quindi c'è la possibilità proprio di interagire, perché si parla di un evento immersivo, perché si possono scegliere i propri contenuti. Quindi il lavoro che si fa all'inizio è di predisporre una serie di contenuti che poi gli spettatori possono selezionare. Nel secondo demo c'è il linguaggio dei segni. Grazie. 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 Grazie.